Buongiorno ragazzi, non sono sparita, ci sono, ci sono, è che sono un po' incasinata e quindi ho rallentato un po' con i video sui piedini. Spero siate tutti bene, io in questo periodo ho deciso di togliere lo smalto perché ogni tanto sapete che io penso che i piedi vadano fatti a respirare. Ecco qui, ecco quelle unghiette ziesche senza smalto. Fra un po' sarà ora di togliere le calze, io ho un piccolo piccolo assaggio di piedini nudi, l'ho fatto qualche settimana fa, adesso è troppo brutto e dunque ho i piedi stracoperti. Vi mando un bacione grande grande e mi raccomando fate i bravi. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.